Un progetto artistico degno di una capitale ravviva la vita tranquilla di Illegio, un minuscolo borgo sulle montagne della Carnia. Adesso vediamo anche con Don Angelo se possiamo trovare quello che serve. E una volta l'anno, la comunità apre le porte a capolavori provenienti dai più prestigiosi musei del mondo, attraendo 400.000 visitatori. L'arte diventa il mezzo per unire ancora di più. Il documentario Diec, il miracolo di Illegio, il 26 marzo in seconda serata su TV2000.